Asfaltature, manutenzioni e arredo urbano. Entro la fine dell'anno verranno appaltati 38 progetti di opere pubbliche per un totale di 14 milioni di euro. Un investimento mai fatto prima dal comune di Fano grazie allo sblocco del patto di stabilità e al lavoro portato avanti in breve tempo dagli uffici tecnici comunali. L'intervento più sostanzioso di 4 milioni sarà riservato alla cura e alla manutenzione delle strade. E' mercoledì sera, durante il nostro programma Primo Cittadino, il sindaco Seri ha annunciato la data in cui partiranno i lavori. Il 7 maggio partiranno le sei ditte che effettueranno le asfaltature nella città di Fani. A breve poi verrà inaugurato il nuovo tratto degli interquartieri, lungo circa un chilometro, che collegherà Sant'Orso, San Cristoforo, Fano 2, Poderino e la zona trave. L'infrastruttura è stata dotata di pista ciclabile e di percorso pedonale, oltre che di barriere fono assorbenti in prossimità delle case. Chi abita lì vicino vede che i lavori stanno procedendo, hanno già chiuso alcune strade per proseguire con i lavori, quindi stanno andando ininterrottamente. E io penso, essendo prudente, che entro l'estate ci circoleranno le auto. Brutte notizie invece arrivano per le terme di Caregnano. Ecco la risposta del sindaco al nostro telespettatore che ha chiesto se verranno riaperte. Devo rispondere di no perché l'azienda che le gestiva è fallita, quindi quelle sono private, non sono pubbliche. Finché non arriverà una nuova società la vedo complicata la cosa. Però ripeto, è un'attività privata, da parte nostra c'è tutta la disponibilità a renderci disponibili anche per quello che possiamo fare, perché sono un servizio per il territorio e anche una risorsa. Però allo stato attuale purtroppo la società che gestiva le terme è fallita. Sulla nuova scuola di Carrara Cucurano il sindaco ha annunciato che il 18 aprile uscirà il bando di gara. Entro l'anno dovrebbero partire i lavori che dovranno terminare nel 2018. Per la difesa della costa invece è terminato da poco il ripascimento delle scogliere di Gimarra, mentre a Sassonia sono partiti lavori che potrebbero risolvere in modo definitivo il problema dell'erosione marina, che più volte ha creato danni ingenti sia ai residenti che agli operatori turistici e balneari. Lavoreranno fino a fine maggio, perché poi c'è l'interruzione per l'estate, perché creerebbe dei disagi anche alla qualità delle acque. E faranno già un bel lavoro fino a maggio. Poi riprenderemo dopo il 15 settembre con l'ultima parte che rimarrà, che è quella davanti a Viale Ruggeri, e per metà ottobre i lavori saranno ultimati. E visto l'approssimarsi della bella stagione, l'amministrazione comunale interverrà non solo sul verde pubblico, ma anche nel lungomare con interventi di illuminazione pubblica e di arredo urbano. Sassonia necessita di un ripensamento e di una riqualificazione complessiva. Entro il fine maggio cambieremo tutti i lampioni a Sassonia, li efficienteremo e saranno anche di qualità estetica migliore. A Lido invece la tensostruttura, che è stata distrutta dalla forza del vento, per ora non verrà ripristinata. La tensostruttura non la sistemiamo, 50 mila euro non ce li abbiamo, diciamo la verità, tanto io ho detto non bisogna dire le bugie. Lo scheletro? No, no, lo mettiamo a posto. Invece sistemeremo, abbiamo previsto di sistemare la parte dell'anfiteatro che c'è lì, in mezzo al Lido. Sì, sì, che l'estate scorsa era stata smantellata la parte in legno. Sì, perché si era rovinata con un temporale e allora quella verrà ripristinata. Grazie. 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 Grazie.